Se volete supportarmi su Fortnite, basterà andare nell'Item Shop, cliccare nelle rettangoline in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Kratomis. Accettare e il gioco sarà fatto. Non appena avete inserito il codice, lo vedete scritto qui in alto a destra. Ringrazio tutti coloro che decidono di supportarmi. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. F**k me. Quando dalla live giù è tutto bene? F**k me. F**k me. Mi siete divertiti ragazzi I game di prima I game di prima Ti hai divertito davvero tanto? I game di prima I game di prima Devo levare un attimo sul microfono raga che mi stanno passi Fuck me Ok. 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 La bandina. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Sto sbattendo in continuazione sul microfono che ho a destra, porca troia. Questo deve avermi stirato la kill, maledetto. Raga, devo trovare uno dei due subito. Ora, se faccio 19 bombe, se faccio il numero 19 è un numero che mi sapevo sul cazzo e non per fortuna, ma mi sapevo sul cazzo in generale. Eccolo, 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 eccetera. E' un botto, eccolo, eccolo. Grazie. Mi pare che l'ultimo player che mi devo beccare è un playground player. Grazie. 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 Grazie.